Salve ragazzi, sono sempre io, American Shadow, qui con Bioshock! Inizio col scusarmi di questa nostra inattività, ma sinceramente Mankind in questi giorni non può fare video per vari problemi. Io purtroppo per mancanza di tempo non posso proprio registrare. Oggi finalmente sono riuscito a trovare un po' di tempo e ho deciso di registrare Bioshock. Bene, quindi, nuova partita senza perdere tempo, regola la luminosità finché la casella grigia e scura è appena visibile sullo sfondo nero. È appena visibile. Un po' così, penso va bene, accetta modifiche. Medio, hai giocato ad altri sparatutti, sì, quindi medio. Caricamento in corso, Bioshock! Fatico a riconoscere Rapture, ho saputo che hanno persino rastrellato della gente da Polo Square. Bene ragazzi, come al solito, non ho mai giocato a questo gioco, ho deciso di giocarlo perché? Perché sull'Xbox ho il secondo, non ci ho mai giocato, l'ho solo avviato per provare se funzionava. Però non ho mai giocato perché non mi è mai interessato più di tanto. 1960? Aha! Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero Figliolo, tu sei speciale, sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Faioshock! Faioshock! Bene ragazzi, durante i video rimarrò in silenzio proprio per goderci insieme questo gioco. Quindi, ho capito che il gioco è ambientato nel 1960, in una città sotterranea chiamata Rapture, non sotterranea, sottomarina scusatemi. Spero che il gioco non laghi, sinceramente. Stiamo affogando. Una borsetta ruba! Giusto, non è il momento adatto. Cosa sta succedendo? Non ne ho idea. Ah, l'aereo è precipitato? Forse. Sì, sì, fatti un giro, guarda. Rimani lì a guardare il fuoco. Sì, si è fatto un giro, mi ha fatto girare la testa, ok, basta girare. Ah! Scusate ragazzi, che imbecille. Dovevo già... Potevo già usare io il personaggio. Sono un imbecillo nato. Ah, e qui inizia la nostra avventura. Ok, stiamo andando e spero, sinceramente, che il gioco non laghi, anche perché ho la risoluzione a 1280x720 in grafica alta. Quindi, se il gioco dovesse laggare, nella prossima parte abbasserò un po' la qualità. Il gioco per il momento sembra fluido. Entriamo qui dentro, non si vede un tubo. Quindi... Ah! Non è chiusa la porta. Si è accesa una luce che c'è scritto. Citazione di Andrew Ryan. Nessuna divinità o re, soltanto l'uomo. Ok, hai ragione tu. Sì, sì, come l'ho detto. Quindi... Oh, stavo scendendo senza rendermene conto. Ok, scendiamo, scendiamo. La grafica è abbastanza bella, diciamo, anche per essere un gioco abbastanza vecchiotto. È bella. Tiro la leva. E scendiamo. Sott'acqua. Non so perché siamo andati qui, sinceramente, se non sapevamo nulla. Wow! Che statua fighissima. 18. Penso che stiamo scendendo. Ok. Ho filmato. Ok, mi sto zitto. Un attimo solo, ragazzi. Voglio vedere se ci sono volume generale. Non 100, ma mettiamo 30. Difficoltà medio. Descrizione oggetti, sottotitoli sì. Era questo che mi interessava. Ok. Prego. Siamo già a 5 minuti. Sono Andrew Ryan. E sono qui per porvi una domanda. Un uomo. Non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. I sottotitoli sono andati a farsi fottere, a quanto pare. Sottotitoli ci sono. Scusate, ragazzi, sinceramente se la grafica va un po' da sola a destra, ma non so il motivo. Guardate che città figa. E intanto i sottotitoli non ci sono. Non mi sembra una buona idea creare una città sottomarina. guardate quello che... Che cavolo sta facendo? Bah. Ah, siamo già a sette minuti e non abbiamo ancora giocato. Scusate, ragazzi. Ma sono sempre interrotto come al solito. Scusate ancora per questa telecamera che va a destra e a sinistra. Nella prossima parte userò il mouse e la tastiera. Anche perché adesso sto utilizzando un joystick che va... Che fa quello che vuole. Welcome to Raptor. Benvenuto a Raptor. Caricamento in corso. Puoi salvare la tua partita in qualsiasi momento dal menu opzioni. Bene, questa è una cosa positiva. Anche perché, come vedete, sto usando il joystick. Però mi sa che dovrò usare il mouse e la tastiera finché io non cambierò il joystick. Perché non so, mi fa questo problema negli ultimi giochi. Non so perché questi cavoli di sottotitoli ogni tanto scompaiono. Perché si è spuntato. Questo morirà. Gente che si mina fuori. Ok. Ok, questo... Sembra... Capitanuncino. Dove è Peter Pan? Dove ha lasciato Peter Pan? Stupido ricombinante. Sì, sì. Sforzo. Sta andando in bagno, forse. Ok, ragazzi. Abbiamo afferrato che c'è anche un ricombinante femmina in bagno. Intanto lì sta succedendo il patatrack fuori. Mi stanno scassando la navicella. Ok. Quello là fuori. Io non voglio uscire, anche perché non sono armato. Quale radio? Questa? Ok, raccogli. Non so come tu sia scampato a quell'incidente aereo, ma ho imparato a non discutere con la provvidenza. Mi chiamo Atlas e cercherò di salvarti la penne. Ora, muoviamoci. Ti riporteremo in superficie. Va bene, ragazzi. Continueremo nella prossima parte. Lasciate un mi piace se volete che la serie vada avanti, anche se penso che stesso adesso continuerò a registrare. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, condividete il video su Facebook ed iscrivetevi al canale. Alla prossima. Ciao. Ciao.